Promette di proseguire la dura opposizione che si era già vista alla Camera al Movimento 5 Stelle che entra nel merito delle proposte. La causalità tolta dal contratto di lavoro è un'assurdità e la formazione non più pagata al 100% ma al 35% affosserà questo paese e la formazione che i giovani devono fare. Le nostre proposte sono tornare a una formazione pagata al 100% dalle imprese, connessione tra scuola e lavoro e università, aziende, e poi cominciare a parlare di cose serie tipo il reddito di cittadinanza.